Ciao Peppino, senti, ci avrei due americane per le mani, perché non passi a lento? Che posso fare? L'una caprese, va bene? Preferisco champagne. Al bar champagne? No, champagne è una canzone. Come fa champagne? Ah già, quella l'hai fatta negli anni settanta. Se vuoi te la insegno io. Champagne per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Mica male. Mica male no, è un classico. Come fa? Come è? E' Carla, hai capito? E' le parole? Che te frega, andate ancora non la conosce nessuno, improvvisa no, sei un mito, improvvisa, improvvisa.